E quindi la prima prova nel calcio non andò bene, non mi era piaciuta. Tornei a casa e dissi, ma babbo, guarda, io al calcio non mi piace, continuo col tennis. Passa un altro anno, mi riprendo il coraggio e dico, vabbè, dai, provo. E quindi vado con mia madre, mi accompagna alla squadra vicino casa e mi ricordo sempre che mia madre andò dal mister e gli disse salve mister, io sono la mamma del nuovo ragazzo, Leonardo verrà a tutti gli allenamenti però alle partite non verrà perché a lui non gli piace la confusione, non gli piace... E quindi state tranquilli che tutta la settimana ci sarà, ma domenica no. Quindi il mister avrà detto, ma chi mi ha portato? Dico, questo ragazzo non fa la partita, ma è tutto strano. Buonasera a tutto il pubblico che ci segue da casa, buonasera alle ragazze e ai ragazzi e buonasera al nostro ospite Leonardo Pavoletti. Facciamo un applauso di nuovo. Siamo arrivati alla seconda puntata della terza stagione di Dieci Storie e oggi ho l'onore e il piacere da tifoso di intervistare il nostro capitano. Leo, come va? Tutto bene, dai, diciamo che sono stati dei mesi un po' particolari perché la squadra stava facendo bene e io ero fuori a fare riabilitazione però per fortuna sono di nuovo in squadra e quindi rivediamo il sereno. Immagino che la mancanza si sia fatta sentire. Noi da tifosi l'abbiamo sentita, ma anche tu penso che da calciatore abbia sentito la mancanza del pallone. Oggi ti presento i ragazzi e le ragazze che stiamo incontrando. Loro arrivano dall'Istituto di Istituzione Superiore Marconi Lussu di Sangavino, Monreale. Ora, fatervelo voi l'applauso. Abbiamo Claudia che più nel dettaglio ci presenterà lei e i suoi compagni. Prego. Ciao, sono Claudia e ti presenterò appunto la nostra scuola che è l'Istituto Superiore Marconi Lussu e nasce appunto da due scuole storiche di Sangavino che sono le ex magistrali e il liceo scientifico. Attualmente ci sono all'incirca 1300 studenti e studentesse che frequentano la nostra scuola e noi oggi siamo appunto dei ragazzi che frequentano il percorso di PCTO o altri una rappresentanza, anche se piccola, di coloro che hanno svolto i campionati sportivi studenteschi a livello appunto sia locale che regionale. Grazie. Grazie, grazie Claudia. Abbiamo anche dei futuri, ma chi lo sa, magari qualche futuro sportivo, qualche futuro calciatore o calciatrice tra di noi. Facciamo un piccolo recap della tua carriera. Tu hai iniziato da professionista alla squadra Armando Picchi di Livorno in Serie D, da qui hai indossato le maglie di Viareggio, Pavia, Juve Stabia, Casale e Lanciano tra la Serie D e la Serie C, poi corregimi se nel frattempo sbaglio, poi il Sassuolo, Varese, di nuovo Sassuolo e poi da buon Livornese sei tornato al mare tra Genova, Col Genoa, Napoli e poi dal 30 agosto 2017 sei un calciatore del Cagliari. Hai giocato circa 460 partite dalla Serie D alla Serie A, più di 400 da professionista appunto, tra queste circa, anzi più di 150, sono in rosso-blu. Hai anche una presenza e un gol in nazionale, penso sia stato un momento molto emozionante, poi ce lo racconterai, 146 gol in carriera, di cui circa 42, numero più, numero meno, con l'armaglia del Cagliari. Iniziamo questa nostra puntata dopo aver dato un po' i numeri, lo iniziamo con il momento delle foto. Noi in Dieci Storie facciamo un po' un viaggio all'interno della storia dell'ospite appunto, con delle foto che abbiano catturato dei momenti importanti della vita del nostro ospite. E qua iniziamo con le prime due foto che ti vedono nella tua tipica esultanza della spolverata delle spalle e poi qua nel momento del gol della nazionale, che è arrivato dopo tre minuti, poi dal tuo ingresso, un gol lampo in Italia, Lichtenstein, spero di aver nominato bene. E' difficile, alle qualificazioni europee 2020, quindi c'è anche il tuo zampino nella vittoria poi finale, direi. Partendo da queste foto, io vorrei fare un passo indietro, vorrei tornare un po' a Leonardo giovane, ragazzo, sognatore, tra l'altro tennista, iniziato con il tennis, ho saputo in giro che avevi anche un rovescio bimane, super. Raccontaci un po' adesso come è avvenuto il passaggio dal primo sport che è stato appunto quello del tennis a poi i campetti del circolo, dell'oratorio e poi il sogno che piano piano ha preso corpo nella tua vita. Raccontaci un po'. Ok, intanto grazie del benvenuto, sono anche molto felice di essere qui con voi e di raccontare la mia storia, una storia normalissima come potrebbe essere uno di voi e spero insomma che possiate trovare dei giusti stimoli e motivazioni per il vostro futuro, in qualsiasi ambito lo cercherete. Io praticamente nasco in una famiglia di sportivi, mio padre è maestro di tennis e quindi già sono il secondo genito e quindi ero precoce nel voler fare sport, però avendo il padre tennista mi spostai subito nel tennis. Insomma, ero bravino perché fisicamente ero dotato, diciamo che sapevo correre e poi piano piano, allenamento dopo allenamento, anche a tennis iniziai a cavarmela, soprattutto con questo rovescio bimano che era potente e abbastanza anche preciso. Quindi iniziavo a vincere ai tornei, al circolo si parlava di me, però succedeva sempre che l'estate magari c'era questo campetto di calcio appena fatto e con tutti gli altri ragazzetti, come c'era la palla, si iniziava a giocare a pallone. E tutti, quando si faceva magari il tornei dei stivi, dei figli, dei soci, eccetera, insomma la mia squadra vinceva sempre, facevo sempre un sacco di golle, quindi a mio padre gli dicevano ma forse tuo figlio ha sbagliato sport, perché non provi a mandarlo a calcio? E quindi verso i dieci anni, quindi anche abbastanza tardi, iniziai questa avventura col calcio, ma dovete capire che il tennis e il calcio sono due sport completamente diversi, quindi il tennis giochi da solo, c'è molto silenzio, è tutta una questione con se stessi, invece poi il calcio ti rapporti con altri bambini, altri ragazzi, altri uomini, e quindi devi sapere stare all'interno di una squadra, che è la cosa più difficile, perché se io sbaglio nel tennis me la posso rifare solo con me stesso, nel bene o nel male, invece nella squadra magari se fai perdere la tua squadra fai perdere 22 ragazzi, poi ora parlando poi a alti livelli, c'è i tifosi, c'è tante altre cose, quindi ti devi iniziare a renderti partecipe di questa situazione, e quindi i primi allenamenti di calcio erano un po', mi tornavano strane, perché tutti ti chiedevano la palla, urlavano, invece nel tennis è sempre il silenzio, e quindi la prima prova nel calcio non andò bene, non mi era piaciuta, tornei a casa e dissi, ma babbo guarda io il calcio non mi piace, continuo col tennis, passo un altro anno, mi riprendo il coraggio e dico, vabbè dai provo, e quindi vado con mia madre, mi accompagna alla squadra vicino casa, e mi ricordo sempre che mia madre andò dal mister e gli disse, salve mister, io sono la mamma del nuovo ragazzo, fa Leonardo verrà a tutti gli allenamenti, però alle partite non verrà, perché a lui non gli piace la confusione, non gli piace, e quindi state tranquilli che tutta la settimana ci sarà, ma domenica no, quindi il mister avrà detto, ma chi mi ha portato, questo ragazzo non fa la partita, ma è tutto strano, e quindi mi viene da me e mi dice, che ruolo vuoi giocare? Io non l'avevo mai giocato, non lo so, e mi fa, ti metto in difesa, va bene, metti in difesa, quindi si inizia questa partita a 11, e mi annoiavo, e lì in difesa centrale non arrivava mai il pallone, osservo per recuperarlo e passarlo, quindi decisi che il primo pallone che mi sarebbe arrivato partivo con la palla, insomma iniziai, go, e tornavo in difesa, altra palla, go, e quindi quest'allenatore, finito l'allenamento aveva un sorriso così, andò dalla mia mamma e gli disse, signora, ma suo figlio farà tutte le partite, è diverso, e da lì nasce un po', allora ho iniziato a capire che magari nel calcio potevo dare qualcosa, iniziano i primi tornelli, le prime partite, insomma, va sempre bene, finché non arrivo all'Armando Picchi, nelle giovanili, che era la seconda squadra di Livorno, perché c'era il Livorno e l'Armando Picchi, che la prima squadra era in Serie D, quindi non professionista. Arrivo negli Juniors, sempre tra quelli ragazzi un po' più dotati, e l'allenatore della prima squadra mi vide fare una partita a Pontedera contro la Juniors del Pontedera, e dice che vede questo ragazzo, io ero molto grezzo, perché poi ho avuto lo sviluppo da essere un ragazzino piccolo a un bestione, quindi non sapevo nemmeno usare il mio corpo, ero diventato lento, però magari avevo più forza. E c'è questo pallone rilanciato dalla difesa che rimbalza al limite dell'aria, il portiere sta uscendo, cazzotto, io arrivo, salto più in alto di lui, di testa, faccio gol, però prendo un cazzotto, svengo. Però quel gol accese la lampadina all'allenatore della prima squadra e disse che questo ha un coraggio incredibile, magari ci posso lavorare. E allora da lì mi porta in prima squadra e faccio due anni e mezzo, giocando sempre un pochino di più, facendo poi l'ultimo anno 13 gol. E da lì poi, diciamo, è partita la mia carriera, perché l'anno dopo poi arrivo nei professionisti, nel viareggio, Pavia, insomma, iniziava il calcio, perché la Serie C ha sempre formato tanti giovani che poi magari non vedi delle partite bellissime, però vedi tante cose genuine pure che magari andando sopra di categoria non trovi più per tanti aspetti. E quindi sono molto fiero di questo inizio di viaggio, perché non mi ha mai regalato nessuno niente. Mi sono dovuto salire ogni categoria a son di gol, a son di prestazioni, sempre visto come un giocatore che tecnicamente non era bravo, e quindi se te non sei tecnicamente bravo non catturi l'occhio, e quindi ci metti sempre un pochino di più, avranno sempre più dubbi. Però questo mi ha portato poi a capire che il lavoro e la costanza nel lavoro ti fa fare delle cose importanti. Alla fine ho fatto cose più importanti io, con meno mezzi tecnici, di tanti altri miei compagni con tecnica sopraffina, però poi mentalmente magari si allenavano male, o un giorno sì, o un giorno non c'avano voglia. A me mi ha portato a capire l'importanza del lavoro quotidiano, e questo poi me lo sono portato fino ad oggi. L'importanza appunto del sacrificio, del non arrendersi mai. Ne parlavamo prima, adesso per arrivare a essere un calcettore professionista, ci sono ma già prima due strade, un po' fare le giovanili già di una big, di una grande squadra, comunque di una squadra che gioca in B o in A, oppure fare un percorso come quello che hai fatto tu, di vera e propria gavetta. C'è un momento in questa tua gavetta, il momento in cui proprio ti sei detto forse posso arrivare davvero in Serie A, o non lo so, proprio il momento in cui ti sei reso conto che il tuo sogno, che si è sviluppato negli anni appunto, che non hai visto da bambino, però si è sviluppato negli anni, stava diventando realtà. Allora, un vero e proprio momento no. Mi sono riscoperto, mi sono dovuto ambientare tante volte perché fino a Cagliari io ho cambiato squadra tutti gli anni e tutti gli anni dovevo ripartire da zero. Soprattutto i primi anni di Serie C ho fatto fatica a capire per quanto io avessi voglia di arrivare, eccetera, però capire cosa mi serviva, che era poi il lavoro quotidiano, era quella voglia di metterci concentrazione, voglia, dedizione, tutti gli allenamenti. E quegli anni lì ho fatto fatica fino a arrivare a Lanciano. A Lanciano facciamo un anno, che io mi ricordo che c'era la presidentessa, lei finisce il giorno del calciomercato, ci mette lì davanti a lei e dice ragazzi io quest'anno non vi chiedo niente, l'importante è che ci salviamo una giornata prima della fine del campionato. Quindi ho detto ma dove sono finito? Io volevo andare su e su, si parla di salvezza, si parla... E invece poi è un'annata strepitosa perché poi si vince il playoff di Serie C, io faccio 16 gol, però quell'anno ho capito lontanissimo da casa perché ero in Abruzzo e da Livorno, insomma, dovevi prendere tre treni, cinque, sei ore, era difficilissimo tornare, quindi ero sempre lì. Ho capito il vivere per il calcio, cosa dovevo fare per provare a diventare un calciatore a tutti gli effetti, quindi il mangiare bene, il dormire bene, il non uscire, perché poi quando ero un ragazzo, avevo 22 anni, dico chi è che non ha voglia di andarsi a fare un aperitivo, andare in discoteca, al mare, qualsiasi cosa. Lì ho capito veramente che se volevo diventare un calciatore dovevo viverla da calciatore e quello fino a quel momento, fino a quell'anno non... l'avevo capito ma non ero riuscito a metterlo in pratica. Quell'anno l'ho fatto e quello mi ha portato poi in avanti a sapere qual era la strada giusta. Poi ci sono sempre delle scorciatoie, ci sono dei dettagli che puoi sempre migliorare, però quella era la strada maestra per arrivare più in alto possibile. Uno dei punti più alti della tua carriera, dopo delle belle annate a Cagliari, una delle tue migliori annate nella tua carriera, è arrivata la chiamata in nazionale. Se non sbaglio poi era la seconda convocazione, comunque c'è già stata un'altra convocazione, non vorrei adesso sbagliare, però insomma al tuo debutto poi è arrivato subito il gol. Com'è stato il momento della chiamata e poi anche del debutto in una maglietta che davvero molti bambini e bambine sognano di rappresentare quando sono bambini, voglio arrivare in nazionale e vincere il mondiale. Ecco tu ce l'hai fatta ad arrivare in nazionale, che momento e che emozioni hai provato? Sì, ti correggo, ma è una banalità, nel senso ero stato già convocato 3-4 volte, ma per farti capire quanta difficoltà c'è, abbiamo già chiamato sia Conte che Ventura e sono arrivato a Mancini sempre tipo Conte una volta, due volte Ventura e quella era la seconda volta di Mancini. La prima volta di Mancini mi porta addirittura in Belgio a fare amichevole con gli Stati Uniti, poteva fare, non lo so, sei cambi, eccetera, mi manda a riscaldare tutto il secondo tempo e non entro e non fa nemmeno tutti i cambi. Quindi dico, insomma, con la nazionale non ci posso fare nulla, è incredibile, non riesco. C'avevo questa voglia di entrare, questa voglia di entrare, ma non c'era mai stato modo, sempre o panchina, tribuna o riscaldamenti. E quella partita ti fa capire che in tre minuti quanta voglia avevo di indossare quella maglia e poi fare quel gol. In tre minuti sono entrato, la prima palla, mi sono buttato dentro, colpo di testa, parato, la palla che rimbalza sulla linea ma non entra, col difensore che sta andando. E lì mi sono buttato, ho detto, butto tutti dentro e per fortuna, insomma, sono arrivato prima del difensore e ho segnato questa importantissima rete del 6-0 con l'Iktestein che ci ha permesso di vincere gli europei, no? Assolutamente, c'è anche il tuo zampino. A parte gli scherzi, però, a parte quando metti quella maglia, quel colore, penso per tutti noi, per chiunque sogna di fare sport ad alti livelli, è il coronamento del sogno che dici, cavolo, ho reso orgoglioso la mia famiglia e tutti i sacrifici sono stati ripagati in tre minuti. Com'è ritrovarsi con altri italiani, i tuoi compagni, che nella stagione, poi in realtà magari sono avversari anche per gli stessi obiettivi, può capitare, insomma, una volta che siete lì, cosa succede? Sì, sì, allora, fa parte sempre del gruppo. Quando naturalmente indossi la maglia della nazionale, tutti levano un po' gli scudi, le corazze e cercano di tirare per la nazionale, essere poi naturalmente uno che non ti sta simpatico non ti sta simpatico a prescindere di quello che fai, però cerchi di trovare il bene comune, quindi io non do noia a te, te non dai noia a me, cerchiamo di lavorare insieme per fare le cose migliori. La cosa bella di quella nazionale era che uno c'era Cragno e Barella, quindi era anche bello che Cagliari avesse tre giocatori della nazionale con Barella, titolarissimo, giovanissimo e titolarissimo. E poi la cosa che io mi ricordo di quelle convocazioni è che in effetti c'era veramente un bel gruppo. Dico, andavi a tavola, di solito mangi in dieci minuti perché ti porta, c'è tutto servito, mangi e ti alzi, magari dici tre parole, e invece con quella nazionale c'era voglia di stare a tavola, di continuare a parlare, ti alzavi venti minuti dopo. Si sentiva che c'era una musica diversa, che poi vai a raccontarla perché poi all'Europei non eri la squadra più forte, però c'era una coesione incredibile e si sentiva già un anno prima, poi due anni prima, perché poi c'è stata la pandemia, c'è slittata, quindi già due anni prima rispetto alla finale dell'Europeo si sentiva una voglia di stare insieme, una voglia, era piacevole stare in quel gruppo lì e quindi questa cosa poi ha portato a un risultato incredibile. Sì, quello è l'aspetto che noi tifosi abbiamo visto di più, perché come dici oggettivamente magari c'era qualche altra squadra che poteva ambire, ma l'unione del gruppo e della squadra vista da fuori era percettibile a tutti. Passiamo alla terza foto, al secondo momento. Sì, forse dell'esultanza non ci siamo... Ah, giusto, è vero, è l'inizio e poi siamo... Questa è colpa mia, però magari dell'esultanza che viene sempre da quegli anni di Serie C che magari anche, magari sicuramente io non facevo il calciatore, non l'avevo ancora capito nemmeno con malizie e cose, però tanti allenatori o tante persone addette ai lavori non mi vedevano come un giocatore che poteva arrivare ad alti livelli, ma anche in Serie B, eccetera, eccetera. Quindi quando poi sono arrivato in Serie B, in Serie A, eccetera, questa esultanza di spolverarsi le spalle era un po' per levarsi queste brutte parole, no brutte parole, giudizi, magari affrettati, giudizi... Ognuno è giusto che abbia il suo giudizio, però era il mio modo di rivincito, era il mio modo di dire... Soprattutto un allenatore mi disse che io in Serie B non ci sarei mai arrivato, mai, 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 detto in modo molto peggio. Sì, sì, lo immagino. Molto peggiore, eh. Io l'ho detto nel modo migliore. E quindi anche queste cose mi hanno fatto scattare, per fortuna nel momento magari non bellissimo della mia carriera, mi ha fatto scattare una voglia di rivincita, di rinascita e di levarmi questo carico che forse troppo me l'ero sentito, che tutti non mi vedevano un futuro giocatore. E allora tutte le volte mi levavo queste parole di dosso per sentirmi più leggero. Insomma, è stata una cosa nata sul momento che poi è rimasta abbastanza impressa negli occhi dei tifosi. Quindi piace quando vado sotto la curva, ora che trovo già i tifosi che fanno così. È una delle cose più belle del calcio. In certi momenti poi nella tua carriera dove ti sei proprio tuffato nella curva, ti sei fatto abbracciare, non solo spolverare appunto le spalle. Torniamo, grazie appunto per la precisazione che abbiamo nominato prima, poi ci siamo spostati. No, no, è stato un errore mio, ma... Eccoti qua, con la tua famiglia, quindi la vita extracalcistica, la vita che si intreccia con il tuo lavoro, un punto fermo sicuramente quando torni a casa dopo le tue giornate e durante le tue giornate. Faccio un po' una domanda che può sembrare banale, forse è una domanda che la risposta è già scontata, però quanto è importante ora la tua famiglia, quanto è stata importante la tua famiglia di origine, nella vita di tutti i giorni, in questo tuo percorso che è andato avanti. Sì, sì, vabbè, è naturale, la famiglia è la famiglia, batte anche la nazionale, devo dire, devo dire tutta la famiglia, è fantastica. Io con Elie ci sto da 15 anni, ancora non siamo sposati, ma vedremo due figli, Giorgio di quattro e Brando di un anno e mezzo, e quindi ho sempre sognato di fare il padre. Io ho interviste anche molto precedenti alla nascita dei miei figli che il mio sogno era di fare il babbo, non era di fare il calciatore. Io dicevo spero che la mia compagna si lauri e inizi a lavorare e io faccio il babbo a tempo piano, perché nella mia famiglia, per quanto ho babbo e mamma, babbo è stato, siccome faceva il maestro di tennis, quindi lavorava quattro ore al giorno, cinque ore al giorno, era molto più presente, invece la mia mamma lavorava tutto il giorno e quindi per me la figura del babbo è il babbo a tempo pieno che ti viene a prendere da scuola, ti porta al campo, ti viene a riprendere e quindi babbo è stato il mio eroe, è il mio eroe e quindi volevo, insomma, riprendere le sue orme. E mio padre è importantissimo, mio madre è altrettanto, perché due mentalità completamente diverse. Mio padre è un po' più affettoso, mia madre è più rigida, però è quella che mi ha insegnato la dedizione al lavoro, quella di non mollare, di quella di farmi trovare preparato, di quella di pensare nuove strategie. Mi hanno dato tutte e due grandi cose che ho portato negli anni che all'inizio non sapevo sfruttare, come ho detto, grazie a loro mi hanno dato tante basi, mi hanno fatto studiare, perché io ho fatto liceo come voi, senza aiuti di nessuna società sportiva, quindi mi sono diplomato con 62, male, però mi sono diplomato con le mie forze e finito quello ho poi iniziato la carriera calcistica, quindi non ero nessuno, dovevo studiare, dovevo fare tutto, e quindi mi hanno insegnato che ci sono i doveri e poi se sei bravo c'è anche il piacere. E questo è quindi, mi hanno sempre supportato in questi anni di carriera e poi ora, insomma, c'è Elly, ci sono i bimbi che oltre a darmi tante gioie c'è il supporto veramente quotidiano di dialogo, ci sono momenti che, soprattutto negli ultimi anni, che ho subito, ho passato momenti difficili, niente di drammatico, però per un calciatore sono momenti difficili, e insomma con loro è sempre stato tutto un po' più facile, quindi ti accorgi di avere persone speciali, di persone che puoi andare in guerra domani e essere fiero e orgoglioso di quello che è costruito e non dubitare di niente. Se ti potessi vedere da fuori, come ti descriveresti in tre parole come papà? Allora, ti ripeto, poi tanti bambi e bimbi che fare figli non è così facile perché tutti, bello, bello, però lavorare, la famiglia è una sorta di lavoro perché ti accorgi che i bambini hanno bisogno di attenzioni, di equilibrio, di un ambiente pulito, di orari e soprattutto noi calciatori siamo abituati che tutto ci viene dato, tutto sei sempre, diciamo, la prima donna per dire che sei sempre, qualsiasi cosa chiedi riesci ad avere il favore, riesci ad avere un aiuto e invece con bambini no, quello devi fare tutto te e loro sono i veri protagonisti, quindi devi cambiare la tua vita, ti hai fatto sempre determinate cose, ti trovi due marmocchietti che comandano loro in casa e ti stravolgono tutto quello che hai sempre voluto fare e pensato di fare e quindi ora loro sono, siamo i loro schiavi, quindi io penso, la prima parola è schiavo dei miei figli, però è allo stesso tempo che quando fai, gli vedi fare un sorriso o lo metto a letto, gli rimbocco le coperte, gli do un bacio, dico, qualsiasi cosa è successa al campo, in partita, qualsiasi cosa sono l'uomo più felice del mondo e quindi... Poi tra l'altro sono sardissimi, sardi al cento per cento Sardi al cento per cento, infatti i miei genitori l'unica cosa sono arrabbiati perché Giorgio parla sardo incredibilmente e allora da noi, da Buon Toscani, che la pronuncia, l'accento è orgoglio regionale, quando si torna quel mese d'estate mi dico, no Leonardo, però no, no, li devi far parlare a Livornese Eh beh, devo fare un paio di anni di... No, finché si sta bene qui, Giorgio è veramente sardo nell'anima A proposito di stare bene qui, parlando appunto di famiglia voi come calciatori avete... c'è la possibilità nella vostra carriera di fare molti spostamenti, tanti spostamenti tu ne hai fatto tanti prima di trovare la stabilità a Cagliari però come si vive come famiglia, quindi anche come uomo la possibilità di trovare con più difficoltà una stabilità fisica che poi voi avete trovato a Cagliari poi ci direi se ti trovi bene, se sei contento ma penso di sì dopo sei anni No, allora ecco, una parte difficile di questo lavoro è cambiare spesso città, cambiare spesso persone che conosci, amicizie e quindi soprattutto i primi anni fai fatica poi come tutte le cose c'è l'abitudine e rinizi a vivere però tutti gli anni trovarsi a... io vado a Viareggio che era a mezz'ora da casa mia quindi abbastanza fattibile tornavo a casa nel fine settimana poi vado a Pavia, Lombardia, non c'ero mai stato, Pavia e lì inizi a fare... non conosci nulla e ti devi affidare a persone che non hai mai visto o che inizi a vedere le prime volte e è sempre così, poi vado a Juve Stabia che è Castellammare di Stabia sotto Napoli quindi dal nord al sud vai da est a ovest con persone, accenti, però poi in Italia ti scopri che stai bene dappertutto a parte i primi mesi che non sai dove andare non sai cosa fare, non sai con chi parlare poi l'italiano è troppo... è facile, ti fa vivere... secondo me l'italiano che poi abbiamo tanti difetti però poi come vedi una persona sola è più forte di noi che gli dai tutto per farlo sentire a casa e quindi questa cosa l'ho sempre riscontrata in tutti i posti dove sono stato e mi ha portato sempre grandi benefici e mi ha fatto amare ogni città in modo suo però lo amate tutte le città dove sono stato poi c'è quella cosa che arrivi e il colpo di fulmine come c'è l'amore c'è anche per le città i posti però lo scopri solo vivendo io ho sempre pensato di vivere a Livorno ora non lo so se vivrò a Livorno perché Cagliari mi ha messo veramente in difficoltà nel senso buono perché trovi un posto dove i tuoi figli stanno bene e ti vivi bene, ti sei fatto un sacco di amici il posto è fantastico, il mare, il sole e dici ma cos'è? dove sono arrivato? come faccio ad andare via ora? e quindi stiamo creando... io ho comprato casa a Cagliari i miei figli sono nati a Cagliari è dura andare via da Cagliari spero di non avere questo pensiero per tanti anni e intanto ci viviamo veramente il quotidiano ci viviamo veramente il quotidiano andare al Poetto andare a farsi una girata nell'entroterra abbiamo girato un po' la Sardegna anche se non in modo eccessivo però ci piace è difficile tornare ora se abbiamo due giorni liberi non torni più a Livorno ma rimani qui ti fai la tua domenica cagliaritana quindi ti senti e partecipe ma anche come mi fanno vivere a Cagliari le persone io vado in giro ciao Paolo, ciao Leo, tutto bene? finisce lì dico anche questo modo di essere sardo di farti sentire che ti voglio bene però sempre con la dovuta distanza con la dovuto rispetto soprattutto e quindi ti fa pensare veramente che è un posto che è difficile andare via che bello noi siamo patola patola noi siamo felici di averti qui e lo saremo anche se deciderai di restare a lungo passiamo all'ultima foto di questa nostra prima parte è un momento particolare questo da poco questi giorni stavo cercando di video appunto di questa partita e mi ha colpito una frase che tu hai detto quando stavi entrando anche perché sei rientrato dall'infortunio che è rimediato il 25 agosto 2019 la rottura del legamento del crociato sinistro e del menisco dello stesso ginocchio hai avuto 7 mesi di tempo di recupero nel piano della riabilitazione hai avuto una ricaduta sempre allo stesso ginocchio quindi insomma un momento non facile poi si è rientrato se non sbaglio il primo agosto 2020 dopo la pandemia nel recupero del campionato in uno stadio vuoto non so se vi ricordate dalla tv che si sentiva qualsiasi cosa loro dicessero gli allenatori i giocatori anche cose che facevano poi sorridere mi ha colpito che quando stavi entrando in campo tu hai detto ce l'abbiamo fatta dicevi prima appunto non è passato un periodo facile sicuramente ti riferivi a questo lunghissimo periodo che momento è stato che mesi sono stati poi sommata la pandemia insomma non è stato immagino facile sì sì penso è stato l'anno a ora più difficile più difficile personalmente più che altro perché vabbè l'infortunio uno un calciatore ad alti livelli sa che fanno parte del gioco e quindi sei un po' abituato dici vabbè una rottura del crociato bruttissima a sei mesi però dici vabbè sei mesi ormai è un'operazione ben consolidata sanno farla ormai occhi chiusi rientri ti danno quella stampistica e se non sbagli riabilitazione o altre cose a sei mesi rientri io per fare il coglione per giocare con un compagno di squadra mi rifaccio male ma banalmente molto banalmente forse avevo invece di rientrare a sei mesi fisiologicamente sarei rientrato qualche mese dopo rispetto a altri giocatori insomma non si saprà mai questa cosa qui però banalmente un'infortunia che magari il giorno dopo in allenamento potevo fare lo stesso movimento e cadere a terra e quindi mi riportava altri sette mesi di stop e poi un sacco di storie brutte insomma non mi hanno non mi hanno aiutato però cosa dovevo fare dovevo ripartire in un modo o nell'altro insomma c'era un contratto da onorare da riprendermi la mia carriera in mano e c'è stato poi nel mezzo la pandemia che è stata una disgrazia globale per tutti eccetera però nel mio caso mi ha leggermente aiutato perché fermando il campionato e ha dilatato insomma le partite arrivando ad agosto e io ad agosto ero a cinque mesi e mezzo dal secondo infortunio quindi io credo di di essere l'unico e sarò l'unico spero insomma perché vuol dire che ci sarebbe un'altra pandemia a farsi due crociati e rientrare nello stesso campionato perché è impossibile matematicamente e quindi io ho fatto la prima partita di quel campionato e gli ultimi cinque minuti dell'ultima che poi è a San Siro contro il Milan in uno stadio vuoto e sembrava impossibile all'inizio invece vabbè sono rientrato leggermente prima del tempo anche se non ero ancora un giocatore a tutti gli effetti però insomma quel sorriso mi dice tanto mi ricordo tanto e invece col capello spero che lo cancellate era un progetto era un progetto ma quello era veramente brutto però insomma è una giornata bellissima insomma molto anche perché quello che mi faceva riflettere che in tanti momenti la tua carriera sicuramente ma anche soprattutto in questi forse emerge o a noi tifosi viene in mente il fatto che voi cioè prima di essere dei calciatori e questo spesso ce lo dimentichiamo proprio come tifosi voi siete degli uomini siete dei ragazzi come qualcuno di noi soprattutto immagino a livello mentale e morale questi momenti sono quelli forse più complicati oltre magari problemi esterni che possono arrivare con le sconfitte tutta una serie di cose però sicuramente questo è stato un momento di caduta ecco rialzarsi perché poi molte volte anche i giovani vivono periodi in cui hanno delle cadute e poi vogliono rialzarsi che consiglio daresti a loro se vivono non solo un infortunio fisico ma anche un periodo difficile magari nella loro carriera nel loro futuro nel loro inseguire un sogno dopo questa tua esperienza sia come calciatore ma anche come dopo questi infortuni poi questa esperienza è vero che è del mondo calcio insomma è infortunio però poi ha toccato veramente la sfera personale e rialzarsi o buttarci giù non è il calciatore calciatore è una parte di me è quello che sono io per rialzarmi da da quell'infortunio da da quel secondo infortunio e come lo sapete non ci vuole un genio tutti siamo umani e abbiamo giornate belle giornate brutte momenti brutti momenti bellissimi sta a noi trovare un equilibrio una bussola dentro che ci sa dire quali sono le persone che ci saranno nei momenti belli nei momenti brutti ma soprattutto in quelli brutti vi accorgerete quante persone non ci saranno più è brutto da dire ve ne accorgerete solo in quei momenti quindi state con gli occhi aperti fidatevi delle vostre sensazioni capite quali sono le persone perché poi crescendo io mi sono accorto che ho gli amici di sempre che mi sono però sono 5-6 negli anni mi sono fatto qualche amico calciatore qualche amico in qualche città però gli amici veri sono pochi e questi poi ti daranno grande forza e supporto nei momenti brutti però poi gli amici ti potranno dire le cose più belle farvi passare una bella giornata ma poi è dentro di voi dovete lavorare con voi stessi che è lì che trovate dove raschiare e ritrovare l'energia perché poi giorno dopo il sole sorge quindi buttarci troppo giù fa anche troppo è anche sbagliato perché dovete pensare che giorno dopo giorno anche la cosa più grande del mondo poi alla lunga la risolvete però dovete essere con l'equilibrio di voi stessi avere fiducia in voi stessi ritrovarla trovare degli stimoli e cercare di trovare di arrivare a quell'obiettivo dovete fissarvi degli obiettivi importanti perché sono quelli che poi piano piano raggiungerete se invece non avete un obiettivo dei giorni vi sentirete persi come in una mareggiata però se so che lì c'è il sole allora io so dove puntare è quello però gli amici vi aiuteranno ma dovete trovarlo dentro voi stessi questa è la cosa più importante che insomma in questi brutti episodi ho riscontrato grazie Paolo grazie siamo arrivati alla seconda parte di questa puntata come ti dicevo all'inizio i ragazzi ti hanno studiato come un personaggio storico ormai sono datate hanno delle curiosità che hanno preparato in settimana le abbiamo raccolte e adesso te le faranno e il primo che ti vuole fare una domanda è Alessandro sì prego prego ciao sono Alessandro ti volevo chiedere come ci si sente ad essere il capitano e che il rapporto hai con i tifosi grazie Alessandro allora capitano anche questo non sono mai stato capitano in nessuna squadra quindi mi ritrovo a Cagliari nel posto che ho iniziato a amare dopo anche qui varie annate bellissime annate brutte mi ritrovo capitano dopo una retrocessione devastante e quindi è stato un gesto che ho apprezzato molto dalla società dalla squadra e non è stato facile rimanere quest'anno perché ormai si puntava il fucile a tutti si doveva scappare però quello che insomma mi sono sentito di fare era che dopo una brutta sconfitta una brutta delusione dopo tanti anni che trovo un posto dove voglio vivere dove sto bene non potevo scappare anch'io dire sì ho giocato meno degli altri anni è colpa di quello è colpa di quell'altro mi sono preso le mie colpe nella giusta percentuale perché è un gioco di squadra perché ognuno è giusto che si senta le sue responsabilità tutti però quando ho percepito che tutti si stavano prendendo le loro le loro responsabilità allora ho sentito il dovere di rimanere qui essere il primo a decidere di rimanere dopo la retrocessione per dare un segnale sia alla squadra sia insomma alla piazza che il Cagliari non aveva solo chiacchieroni giocatori che pensavano solo ai soldi eccetera ma c'erano persone magari scarse però di principi e di valori e quindi ho voluto dare questo segnale che poi insomma la società ha riconosciuto dandomi la fascia e quindi è stata una cosa molto bella che non è facile fare il capitano perché scopri che all'interno della squadra poi essendo grande il capitano ha dei ruoli e dei momenti in cui devi intervenire perché se fai insomma calcio ci sono situazioni anche all'interno dello spogliatoio in campo che ti devi prendere una responsabilità di parlare di dare il buon esempio di non devi più sbagliare nulla al lato o provare a non sbagliare nulla al lato proprio umano e professionale e questa è una cosa che tutti i giorni ti tiene ancora più sul pezzo e ancora più motivato a dare tanto infatti il mio infortunio di questi mesi mi è dispiaciuto perché dopo la scelta di rimanere ti ritrovi nel momento buono perché si è faticato a arrivare al momento buono anche quest'anno e insomma dalla prima partita di Ranieri faccio gol eccetera e mi ritrovo fuori per tre mesi insomma questo mi ha mi ha un po' buttato giù però anche quello io ho un obiettivo più grande un infortunio così non mi può scalfire quello che ho in testa e quindi sono lì mi sono rimesso a lavorare sperando e provando a essere decisivo e importante per le partite più belle e più emozionanti di quest'anno lo vogliamo tutti questo lo spero andiamo con la domanda di Aurora ecco te ciao in rosso e blu in rosso e blu io sono Aurora e volevo chiederti qual è stata la prima cosa che hai pensato dopo che è finita la partita della salvezza con il Venezia grazie grazie Aurora domanda hai voluto mettere il dito piega è stato difficile naturalmente come tutte le cose belle e brutte te ne rendi conto i giorni dopo mesi dopo e soprattutto io mi ricordo la prima notte che ci siamo ritrovati ad Asseminello dal perché si pareggia a Venezia siamo retrocessi il giorno dopo siamo tutti la società ci dà il via libera di andare via e quindi non ci si era più visti sentiti niente e il centro sportivo non l'aveva quindi la prima notte che ci ritroviamo per il ritiro dovevo ridormire nella camera dove un mese e mezzo prima avevo dormito prima di andare a Venezia e ti dico la verità ho avuto incubi tutta la notte pensavo che in un mese e mezzo di vacanza che poi in vacanza sono stato a casa con i miei bambini insomma non ho fatto niente di particolare però magari col tempo un po' quel ricordo si sfumasse un pochino invece quella notte me la ricorderò per tutta la vita che insomma non avendo partito il giorno dopo non avendo chissà cosa il giorno dopo quella notte è stato un incubo continuo non riuscivo a dormire quindi questa cosa mi ha fatto capire che ancora non l'avevo assimilata non l'avevo superata e infatti credo anche i primi mesi del campionato abbiamo risentito molto soprattutto noi che eravamo rimasti di quella partita lì che era la mia prima retrocessione poi il retrocedere in quel modo è stato veramente una è stato umiliante ti dico la verità che non difficile da cancellare ancora ora però come ti dicevo tutte le cose anche la più drammatica piano piano perde il suo il suo effetto e quindi ora è più la voglia di rivincita la voglia di rinascita che ripensare a quel a quel giorno maledetto che per tutte le cose alla fine in campo ci sarà noi e si doveva dare e si doveva si doveva fare di più quello è sicuro grazie Sara è pronta per la terza domanda ecco ti ciao sono Sara e volevo chiederti quanti sacrifici hai dovuto fare per raggiungere i tuoi obiettivi sì sacrifici tanti 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 più che altro come raccontavo della mia storia non non mi hanno mai regalato nulla e continuo a farlo ora che poi a dire ora è capitano del Cagliari e cose sbagli una partita sei forse sei ancora più nel riflettore quindi preparatevi che questa vita dovete battagliare ogni giorno ogni giorno per raggiungere l'obiettivo però poi quando raggiungete l'obiettivo vi girate indietro e vi accorgete che tutto quello che avete fatto che poi l'obiettivo è bello ma è il viaggio che avete fatto per raggiungerlo con tutti quei notti quei giorni lì a sudare e dici cavolo sono arrivato all'obiettivo ma quanto è stato bello però sudare lavorare sul campo perdere vincere io quello che poi ci rimane di ogni anno soprattutto calcistico che tiri le somme e dici arrivi a giugno tiri la somma e dici cosa ho fatto durante l'anno sei sempre con l'ansia non dici mamma mia un dolore arriva a giugno poi arrivi a giugno e dici cavolo mi sono divertito nel bene o nel male c'è sempre motivi di di cogliere dettagli cogliere emozioni ogni giorno è sempre un'avventura ogni giorno è un'avventura e quindi devi essere bravo a sudarti quel giorno arrivare a dormire quella notte dicendo io ho dato tutto quel giorno quindi vado a letto sereno giorno dopo si riparte ma giorno dopo è tutta un'altra storia e quindi devi essere sempre pronto a fare sacrifici grazie ragazzi un sacco di di spunti wow andiamo con la quarta domanda che ci farà Martina ecco ti ciao sono Martina se non fossi diventato calciatore quale strada avresti scelto grazie Martina questo è molto difficile molto difficile perché come vi vi dicevo a scuola non ero furtissimo in alcune materie me la cavavo in altre però sai come un tipico ragazzo che magari ancora non ha capito quanto è importante la scuola e ora ve lo posso dire vi sembrerà banale vi sembrerà però ora mi accorgo i frutti della scuola di 15 anni fa quanto mi ha permesso di capire momenti della mia vita momenti calcistici e saperli elaborare con la mia testa e sapere chi ascoltare chi non ascoltare quello che mi dice magari in parte giusto in parte no e saper farsi un esame di coscienza dico il liceo o la scuola vi deve permettere di usare il più possibile la vostra testa darvi tutti gli strumenti perché poi quando sarete soli come mi trovo io a avere una famiglia nessuno ti insegna a fare il padre nessuno ti insegna perché poi ognuno pensa al proprio orticello e quindi quando sarete da soli per strada dovete cavarvela da sola e quindi se avete proprietà mentale e saper avere gli strumenti di analizzare ogni situazione quella sarà la vostra arma vincente in tutto fondamentale e quindi ti ripeto che molto probabilmente non lo so mi sarei boh avrei iniziato l'università sono sincero avrei fatto fatica a vedermi in un altro modo e quindi sono fortunato e contento di non doverlo scoprire più bene andiamo con la prossima curiosità che ti chiederà Matteo ciao Paavo io sono Matteo e ti volevo chiedere quanto è difficile conciliare la vita pubblica e la vita privata grazie grazie Matteo ormai Paavo Matteo siamo amici lunga data allora non è difficile naturalmente quando crei una famiglia soprattutto nel calcio lei sa benissimo che te determinate ore sei al campo determinate ore sei determinati giorni sei alla partita quindi poi noi facciamo il ritiro il giorno prima quindi vai via stai fuori due giorni quindi bene o male crei questa famiglia in base alle esigenze soprattutto per fortuna mia di me calciatore e naturalmente poi in determinati città in determinati luoghi è più facile fare il calciatore in altri è un po' più difficile io riscontro Cagliari un posto dove vivere perché Cagliari ti riconosce come calciatore magari ti chiede l'autografo la foto però sempre con molto rispetto molto educazione magari stai mangiando aspetta che tu finisca di mangiare e poi ti chiede qualcosa e questo ti fa capire che è un posto dove vivi la tua vita privata e il calcio nel modo migliore più sano possibile magari in altri posti è più difficile sono molto più calorosi vengono al tavolo sei con la famiglia devi fare la foto e quindi anche queste cose un po' giocatori perché poi siamo persone siamo ragazzi anche queste cose nel piatto della bilancia nella decisione finale contano sempre quindi Cagliari per me è stato veramente un posto fertile dove insomma mettere radici perché ti lascia vivere mi lascia vivere Leonardo persona a prescindere quello che sto facendo poi durante il sabato e la domenica andiamo con l'ultima domanda di Giorgia ecco te ciao sono Giorgia a scuola ci viene chiesto di essere una squadra tu come riesci a incoraggiare e valorizzare la tua quali consigli potresti darci grazie grazie Giorgia è difficile questo perché poi ogni persona ha il suo modo di esprimersi e riconosce magari dei valori o dei punti di forza io credo che soprattutto nel calcio ma in qualsiasi ambiente dove dobbiamo raggiungere un obiettivo comune la cosa più importante il valore più importante è l'unione di intenti perché io la posso pensare in un modo te la puoi pensare in un altro diciamo tanti individui diversi con storie diverse con culture diverse eccetera e quindi però se tutti abbiamo quell'obiettivo allora poi tutte le cose si assottigliano e si pensa tutti ad arrivare lì in un modo o in un altro arriviamo lì e quindi giorno dopo giorno cerco di limare i comportamenti che vanno a disturbare il benessere o il insomma il far stare bene il gruppo e privilegiare ragazzi che invece vedo poi in campo o nella vita quotidiana dello spogliatoio essere persone educate persone che si farebbero in quattro per il compagno accanto e quindi queste cose secondo me le devi valorizzare perché poi saranno l'esempio per tutti gli altri che diranno cavolo lui si fa un quattro per me allora mi faccio anch'io e allora se tutti pensano così puoi fare solo che bene poi magari l'obiettivo non lo raggiungi però ti come squadra sarai sempre fiero di aver fatto quel percorso insieme grazie siamo arrivati al momento alla chiusura di questa puntata ti chiedo un ultimo regalo ce ne hai fatto tanti è stata davvero una chiacchierata illuminante grazie ti chiedo tre parole tre valori che sono per te stati importanti per te per la tua vita che vuoi appunto regalare a noi ma anche ai nostri studenti le nostre studentesse sì allora sicuramente l'amicizia come in tutte le cose forse famiglia secondo me famiglia racchiude più il perché poi se te sei un mio amico stretto diventi fai parte della mia famiglia quindi voglio l'amicizia è proprio stretta stretta quindi rientra nella sfera della famiglia poi perseveranza perché ogni giorno come dicevo è un'avventura che va bisogna lavorare lavorarci e sudare e poi sacrificio perché senza il sacrificio non non arriviamo da nessuna parte ce le vuoi regalare anche fisicamente noi in questa nuova stagione di ecistore le stiamo tenendo qua tutte le parole che gli ospiti ci regalano in questi cuoricini quindi di puntata in puntata avremo sempre più cuoricini quindi ti chiedo se ti va di scrivercele e lasciare una piccola firma grazie proprio in diretta amicizia perseveranza e sacrificio si metto famiglia va benissimo sono ancora a scrivere quindi cosa importante insomma l'avete chiesto anche perché immagino di autografia non ne firmerai migliaia perseveranza perseveranza all'è buona tutte le più difficili e grazie infinite le terremo qua come pietre preziose bene siamo in chiusura di questa seconda puntata io pavo ti ringrazio ancora ti ringrazio anche da tifoso ci vediamo a fine stagione ci aggiorneremo a fine stagione molto volenti non diciamo niente a fine stagione poi vedremo un po' diamo l'appuntamento a tutti i tifosi che ci stanno guardando a tutto il pubblico che sta seguendo 10 storie per la prossima puntata prima però permettetemi di ringraziare anche voi fatevi un applauso alle studentesse agli studenti alle professoresse ai professori e alla dirigente tutto l'elenco fatto dell'istituto di istruzione superiore Marconi Lusso di Sanghavilo che è stata anche la mia scuola applausi gioco il caso bene diamo l'appuntamento per la prossima puntata come dicevo poco fa ci vediamo mercoledì 24 maggio sempre alle 18 con noi ci sarà Tania Caeto che è la responsabile dell'area di sviluppo dell'agenzia NCIA dell'annato lo troverete la puntata sempre sulla pagina facebook della Caritas di Alesterralba sul canale youtube della diocesi di Alesterralba e inoltre potete seguirci anche su tiktok quindi ci troveremo anche lì non ci sono giustamente ti tagheremo e insomma vedremo grazie ancora a Paavo buona serata e buona continuazione di stagione grazie davvero che siete rimasti fino alla fine incredibilmente grazie grazie alla prossima grazie a tutti grazie a tutti